Altro elemento Teniamo presente che questo abbà ci porta ad essere discepoli Normalmente, qual è l'atteggiamento del maschietto? Voglio essere come te, lo dice il padre La bambina dice alla madre la stessa cosa E' importante osservare i piccoli Certamente il piccolo è ingenuo, non conosce tante cose Alle volte dice strafalcioni Ma osservate l'atteggiamento che il bambino piccolo ha Verso suo padre e verso sua madre Lì noi capiamo chi siamo Abbiamo dimenticato questo E Gesù senza pietà ce lo dice O imparate da loro Il regno dei cieli, se no ve lo sognate Noi abbiamo preso il cristianesimo Lo abbiamo messo in ascensore E lo abbiamo portato fin qua Da qua in giù non c'è cristianesimo Lo abbiamo intellettualizzato E ci siamo dimenticati dell'altro aspetto della persona Che è il mondo del sentire Perché il mondo del sentire plasma L'atteggiamento Questo sta dietro la parola Abba Ancora Quando Matteo dice padre nostro È un pochettino birichino Non è padre loro È padre nostro Gesù dice Abba Non lo specifica Dietro alla Abba Di Gesù c'è l'universalismo È vero Che nel prologo di Giovanni C'è una frase che dovrebbe farci riflettere A coloro che l'hanno accolto Ha dato il potere di diventare figli di Dio Essere figli di Dio Noi credenti Ne abbiamo la consapevolezza Ma chi non è credente Non ha la consapevolezza Ma non per questo È meno figlio di Dio La differenza fra noi E coloro che cristiani non sono Sta solo in questo Noi siamo consapevoli E quindi tiriamo giù tutte le conseguenze Il nostro fratello ebreo Musulmano Hindu Buddista Ateo Non sa di esserlo E non tira giù nessuna conseguenza Questa consapevolezza Ci fa uguali agli altri Perché abbiamo uno stesso padre E ci fa diversi dagli altri Perché sappiamo cosa significa Poi Siamo alla linea 110 Sappiamo Forse Da questo Abba poi deriva un'altra morale E la comprendiamo benissimo Con questi esempi che vi ho messo Siamo alla linea 112 Ma io vi dico Amate i vostri nemici E pregate per quelli che vi perseguitano Affinché siate figli del Padre vostro Che è nei cieli Egli fa sorgere il suo sole Sui cattivi e sui buoni Fermatevi un momento Di chi è questo brano Di Matteo Capite perché c'è il Padre nostro Che è nei cieli Alla linea 113 Sta ripetendo la formula Del Padre nostro Questo caso La sta anticipando Perché il Padre nostro Lo troveremo Al capitolo 6 Di Matteo Dunque Affinché siate figli Del Padre vostro Che è nei cieli Egli fa sorgere il suo sole Sui cattivi e sui buoni Fa piovere sui giusti E sugli ingiusti Infatti Se amate quelli che vi amano Quale ricompensa ne avete? Cosa sottintende? Che Dio ama Coloro che lo amano E ama Coloro che non lo amano Non fanno così Anche i pubblicani? E qui Sembra che Gesù Non sia molto Simpatizzante Con i pubblicani Perché Sono ladri Opprimono la gente Questo non significa Che lui non peschi Matteo Tra questa gente Non significa Che non peschi Zaccheo Fra questa gente Ma il pubblicano In quanto istituzione Gesù non lo ama Perché ruba Alla gente E se date il saluto Soltanto ai vostri fratelli Che cosa fate Di straordinario? Non fanno così Anche i pagani? Voi dunque Fra parentesi È giusto Sarete perfetti Come è perfetto Il Padre vostro Celeste Capite che questa è Un'altra morale Linea 120 Perché la gente Non veda Che tu digiuni Ma solo il Padre tuo Solo il Padre tuo Che è nel segreto E il Padre tuo E il Padre tuo Che vede nel segreto Ti ricompenserà Qui bisognerebbe aprire Una grossissima parentesi Io ogni tanto Ne faccio cenno Ma vedo che È difficile Tutto il Nuovo Testamento È contro la filosofia del sembrare La nostra cultura odierna È tutta fondata È tutta fondata Sulla filosofia del sembrare Noi oggi Atei Ebrei Musulmani Cristiani Facciamo una fatica tremenda A entrare dentro A entrare dentro In questa logica Perché? Perché viviamo In un tessuto sociale Dove il sembrare È l'essenza La gente si sottopone A vere e proprie torture Per sembrare Eleganti Giovani Dotti Perfetti Ma va Poi scoppiano gli scandali Ed è difficile Per noi capire Che questo sistema di pensiero Ci rovina Vuoi essere perfetto? Bene Incomincia la strada Non ci riuscirai sempre Perché siamo persone deboli Ok Riconosci Ma intraprendi La filosofia Dell'essere Io ho 69 anni Suonati E non mi vergogno Di dirli Tu chiedi a qualcuno Quanti anni ha Non te lo dice? Ma perché? Cosa cambia? Niente Però bisogna sembrare giovani Perché se non sei giovane Non vali niente E chi te l'ha detto? I grandi Han dato il meglio Da vecchi E allora prega Dio Di diventare vecchio Verrà il momento In cui Il vecchio Si rimbambisce E la tua ora Perché Il rimbambimento Fa parte Dell'esperienza Della vita Perché Rifiutarlo Rifiuti forse Il bambino Perché non sa parlare E perché Devi rifiutare Il vecchio Che si rimbambisce Capite che abbiamo Un'idea Di persona Perfetta Di una perfezione Che nessuno possiede E allora Tutto ciò Che non corrisponde A quel modello Va scartato Ma siamo fuori? Questo è un concetto Che porta al nazismo Ma noi il nazismo L'abbiamo ripudiato È la stessa Matrice di pensiero Filosofia dell'essere Filosofia del sembrare Gesù la rifiuta Radicalmente Questa seconda E spinge i suoi discepoli Alla prima Che non è facile Non si accetta Con un click È un modo di pensare La propria vita Nella pulizia mentale Nell'autenticità Costa Tremenda fatica Qualche volta Ci riesce Molto spesso Non ci riesce Ma almeno Rendiamoci conto Che questa è la strada Terzo punto Della nuova morale In quel tempo Gesù disse Ti rendo lode Padre Ti ringrazio Signore del cielo e della terra Perché hai nascosto queste cose? Hai laureati in esegesi? Ai sapienti e ai dotti E le hai rivelate ai piccoli? Sì padre Perché così hai deciso Nella tua benevolenza Guardate che non dice All'ignoranti State attenti Perché gli ignoranti Non sono trattati bene Perché quando c'è l'ignoranza C'è la presunzione E c'è un testo Che mi fa sempre Riflettere molto La magnanimità Del Signore nostro Consideratela Come salvezza Il fatto che non vi mandi La fine del mondo Ma Dio aspetta Questo significa Che avete tempo Per convertirvi Così vi è scritto Anche il nostro carissimo Fratello Paolo Secondo la sapienza Che gli è stata data Come In tutte le lettere Nelle quali Egli parla Di queste cose In esse lettere Vi sono alcuni punti Difficili Da comprendere Che Wow Gli ignoranti E gli incerti Travisano Al pari Delle altre scritture Per la loro Propria Apoleia Cosa significa Apoleia Prendete il leader Scott E andate a vedere Significa rovina eterna E per questo Gesù dice Che Dio Nasconde Queste cose A chi pensa Che la vita Sia fatta Solo di testa Di comprensione Razionale Delle cose Comprensione razionale Occorre Ma non è tutto Il piccolo Non ha solo Comprensione razionale Ha anche La comprensione Emozionale Ed è la sintesi Fra le due Comprensioni Che ti dà La conoscenza Del vero Non la conoscenza Emozionale Soltanto Non la conoscenza Razionale Soltanto Vi è chiaro? Bene Che cosa si nasconde Dietro a queste frasi Poi andiamo avanti La capacità Di leggere Ciò che vivi Gesù Cosa sta dicendo? Vedo In ciò Che vivo Questo dato E cioè Che Dio Nasconde Queste cose I sapienti E i dotti E le rivela I piccoli A chi è Dentro Bambino La comprensione Di ciò Che viviamo Non è Un fatto Filosofico È Un'analisi Paziente Fatta Con la testa E con il cuore Con la deduzione Razionale Con l'intuizione Con la freddezza Del ragionamento E il momento Affettivo E allora Tu ti rendi Conto Di ciò Che vivi Non è Possibile Chiudere Il vissuto Dentro Al cuore Soltanto E non è Possibile Chiudere Il vissuto Dentro La ragione Soltanto Perché Noi siamo Questo E quello E allora Per capirci Abbiamo bisogno Di attivare La conoscenza Razionale La conoscenza Emotiva È questo Che sta Dicendo Ti rendo lode Padre Signore del cielo E della terra Perché hai nascosto Queste cose I sapienti E i dotti E le hai rivelate I piccoli Sì padre Perché così Hai deciso Nella tua Benevolenza Tutto è stato Dato A me Dal padre Mio Nessuno Conosce il figlio Se non il padre Ma questa cosa È più grave Nessuno Conosce il padre Se non il figlio E colui Al quale Il figlio Vorrà Rivelarlo E nell'ultima cena Gesù dirà Non vi chiamo Più servi Ma vi chiamo Perché tutto quello Che ho ricevuto Del padre mio Ve lo ho fatto Conoscere Penultimo Cambiamento Morale Gesù diceva Padre Perdona loro Perché non sanno Quello che fanno Il perdono È un elemento Essenziale Del tuo essere Figlio di Dio Ed è un perdono Che scusa Padre perdona loro Perché non sanno Quello che fanno Non è solo Perdono Ma anche Li giustifico Cerco di capirli Ed infine Padre Nelle tue mani Consegno Il mio spirito Sarebbe una preghiera Io chiedo Al buon Dio Che mi dia La possibilità Di dirla Quando morirò Che sei nei cieli È importante Sì Però Ha un'importanza Relativa Rispetto alla parola Padre Prima di tutto Teniamo presente Che l'espressione Padre mio Tuo Suo Nostro Vostro Loro Che è nei cieli È una frase Che si trova Molto spesso Negli scritti Posteriori Al Vangelo Però Guardate Che non Indica Esattamente Il luogo Dove Dio Vive Perché noi Siamo anche Un po' ingenuotti Diciamo Quelli là Erano primitivi Non avevano La metafisica Erano Mentirozze E quindi Facevano vivere Dio in cielo Tua nonna Linea 140 Questo testo È del Sesto secolo Avanti Cristo Aristotele Nascerà Due secoli Dopo Questa è la Preghiera Di Salomone Lui si interroga Ma è proprio Vero che Dio Abita sulla terra Ecco I cieli E i cieli Dei cieli Classico Concetto Ebraico I cieli Shamaim Plurale E dice Salomone Soffitto Gettata Di cemento Immaginatevi Che vi sia Un'altra Soffitto Un'altra Gettata Di cemento Al di sopra Bene Dio non abita Neanche là Ecco I cieli E i cieli Dei cieli Non possono Contenerti Tanto meno Questa casa Che io ti ho costruito Dunque Il cielo Non è il luogo Dove Dio Abita E allora Cosa indica Questo cielo O questi cieli Indicano Ciò che noi Oggi Con la metafisica In tasca Chiamiamo Trascendenze Il Gansandere Il tutt'altro Quello che è Al di fuori Del nostro Mondo Creato Secondo Indica anche Questo Padre nostro Che sei In i cieli Una Concezione Cosmologica Noi abbiamo Riso Giustamente Perché leggiamo Le cose Dal punto di vista Post Galileiano Ma chi viveva In epoca Pre-Galileiana Nel primo secolo Aveva una concezione Tolemaica Dell'universo E in questa concezione Tolemaica Dell'universo Più uno Era in alto Più vedeva Questa enorme Moneta Da due euro Che era la terra Questa moneta Poteva avere Avvalamenti E montagne Ma se tu sei in alto Nessuno può nascondersi Questa concezione Che nessuno può nascondersi È chiarissima Nella Bibbia Provate a prendere In linea 147 Se salgo in cielo Là tu sei Se scendo negli inferi Eccoti Dio vive dappertutto Se prendo le ali Dell'aurora Per abitare All'estremità del mare Anche là Mi guida la tua mano E mi afferra La tua destra Se dico Almeno le tenebre Mi avvolgano E la luce intorno a me Sia notte Nemmeno le tenebre Per te Sono tenebre E la notte È luminosa come il giorno Per te le tenebre Sono come la luce Padre nostro Che sei nei cieli Significa Abba Che hai un'attenzione Per tutti Individualmente Perché ci segui Tutti quanti E nessuno di noi Sfugge Al tuo sguardo Di padre Grazie Buona domenica